Tante le differenze tra il Milan della scorsa stagione e questo Milan si sono evidenziate, sono state sottolineate sul piano del rendimento dello spettacolo del gioco dei punti. Nella scorsa stagione il Milan alla nona era 10 punti, 23 quest'anno più del doppio. Alla nona giornata il Milan aveva perso contro la Roma 2 a 1 e ricordiamo le parole di Pioli, appena arrivato aveva pareggiato il 2 a 2 la giornata precedente e aveva detto qui a qualche giocatore pareggiare o vincere o perdere sembra completamente uguale, sembra che nulla cambi. Parole forti, aveva spiegato Pioli che era rimasto sorpreso da questo andamento anche mentale della squadra, una squadra figlia dell'inizio con Pioli, aveva vinto a Genova ma è stato poi Pioli esonerato, pareggia col tiro all'ultimo minuto, lo ricordiamo, del Lecce di Caldirola e poi perde a Roma. Avrebbe vinto con la SPAL con grande fatica 1 a 0, avrebbe perso poi le altre tra le quali la Juventus e la Lazio, quindi un Milan veramente in difficoltà, ma che se voi ricordate, ed ecco il segreto di questo Milan di oggi, se voi ricordate un anno fa anche il contorno era complicato, sembrava ci fossero quasi due Milan, due Milan all'interno della società, uno che la pensava in una maniera e l'altro con Boba ne Maldini e Massara ne pensasse un'altra. È stato mandato via Gattuso, sembrava che in estate qualcuno propendesse per Giampaolo, a livello societario si vedevano altre figure, c'era sempre questa, questi contrasti, queste differenze di veduta possono capitare tra dirigenti dello stesso club, ma è meglio che non capitino, tra una squadra soprattutto di giovani promettenti che costassero il giusto ma che poi potessero esplodere e altri, Boba ne Maldini, che continuavano a sostenere, sì giovani ma abbiamo bisogno di qualche figura di riferimento e di esperienza. Questa differenza di vedute, come sempre capita nelle società che hanno all'interno qualche problematica, ha portato poi a dei risultati, di solito capita, non parlo del Milan, parlo in generale, ha dei risultati altanelanti e spesso negativi e ricordiamo il 5 a 0 clamoroso e benedetto, il 5 a 0 clamoroso e benedetto a Bergamo che ha dato una sterzata. Poi nessuno, ecco non diciamo questo, nessuno ha fatto un passo indietro, nessuno. C'è stato l'episodio poi col tempo, questi dissidi o perlomeno contrasti sul piano della filosofia con Boban, l'allontanamento di Boban e tutto questo faceva sì che non tutto filasse per il verso nel club. E i risultati si vedono, si sono visti o meglio. Perché? Perché, ripeto, quando non tutti remano, e l'ha detto Maldini nell'ultima intervista di qualche giorno fa, oggi siamo tutti coinvolti e andiamo tutti nella stessa direzione e c'è un'unità di intenti. Allora, un anno fa, 8-9 mesi fa, non era così, c'era una differenza di vedute, c'era una differenza di vedute. Nessuno ha fatto un passo indietro, c'è stato piuttosto un passo laterale di tutte le componenti di casa Milan e a poco a poco l'arrivo di Chier, l'arrivo di Ibrahimovic, ma quest'estate ecco perché le filosofie conciliano, l'arrivo del giovane Brahim Diaz, l'arrivo del giovane Dalot, l'arrivo poi nel finale del mercato del giovane Auge, perché ormai ormai sono totalmente unite le visioni della squadra, le visioni, le strategie e che cosa ha portato? Una totale serenità di ambienti. Oggi di società Milan all'interno Maldini, Gazzidis, Massara vanno a vedere l'allenamento. Intelligente la scelta comune poi di Piori. Ed è stato questo il passo decisivo per le fortune del Milan di questa stagione, la scelta della continuità. Anch'io, anch'io ero, lo sapete, un ragnichiano convinto perché non solo sul piano della rivoluzione del gioco, mi aspettavo un altro Sacchi, un Milan che potesse dare spettacolo con un gioco nuovo, ma soprattutto vista sempre queste differenze vedute, non uso parolone, questa differenza di vedute strategiche di filosofia, a me affascinava Ragnich perché avrebbe catalizzato, avrebbe e sarebbe stato lui a catalizzare, a decidere e a prendere in mano la situazione per evitare in futuro un pensiero, un altro pensiero, una scelta, un'altra scelta. No, arrivava lui e catalizzava. Per fortuna non sono dirigente del Milan, tutti i dirigenti insieme hanno parlato, hanno ragionato, hanno capito che Ragnich in ogni caso non avrebbe avuto lo spazio per lavorare nel breve tempo tra un campionato e l'altro e allora la decisione, la decisione comune di continuare con Stefano Pioli ed è una delle fortune del Milan, visto l'andamento e il modo di lavorare, il modo intelligente anche di mettere la squadra in campo, questa flessibilità, meglio che ci sia Ibra ma senza Ibra troviamo un modo di lavorare. Ecco quindi il segreto di questo successo è ancora come sempre succede nel club perché come ha detto Maldini ripeto oggi tutti sulla stessa linea, si ragiona insieme, giocatore ed ecco che si parla di Toven, giocatore esperto ma poi andiamo a prendere anche qualche giocatore giovane ed ecco che si parla di Kabak proprio perché il mix è la soluzione ideale. Ripeto capisco, capivo la voglia di innovare da parte di Londra con questi giocatori giovani, un Milan che potesse dare un riferimento ma dato che poi quando il sapore non è più di cenere della sconfitta ma è quello di miele di castagno che oltretutto è anche l'ideale da mettere nel tè perché la mattina è l'ideale, vi do questa parentesi, il miele di castagno invece dello zucchero. Ecco perché è dolcificante ma positivo, non so bene i termini. Ebbene avere questo sapore di miele di castagno è certamente meglio che avere il sapore di cenere della sconfitta, il miele di castagno è della vittoria più dolce. E quindi questo è il segreto, oggi la società è unita in tutte le sue decisioni. Piace vincere, filosofia, sa già Paolo Maldini che non potranno andare a prendere il giocatore e non vogliono andare a prendere il giocatore da 40-50 milioni di euro, non è nella filosofia. Andiamo a prendere il Chier della situazione, andiamo a prendere il Teo Hernández della situazione, quindi giocatore esperto non tanto caro, giocatore un pochino più costoso. E il segreto di questo successo secondo me non è Ibra, non è Chier, non è i, non lo so io, Tonali o Romagnoli o Rebic o Cialanoglu. Certo importanti, certo fondamentali perché in campo vanno loro, ma il segreto è questo club, è questa società unita, finalmente senza più differenze e divergenze di vedute. Ed è questo il segreto secondo me del successo di Milan in questo momento. Stiamo calmi, voi, io non sto calmo. È il segreto di questo successo del Milan capolista. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like. È il segreto di ogni successo dunque, ve l'ho detto e se vi è piaciuto, ripeto, mettete questo like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pelegati.